Il primo premio è stato staccato dalla signora Laura Pesci rispettivamente il signor Antonio Corsini stacca il primo e il terzo premio vincente tra i porti di 1200 euro e 500 euro il secondo premio del valore di 800 euro in buoni spesa per la signora Laura Pesci invece viene staccato nel negozio Quill Abiliamento 1 Per cambiarsi un po' addosso l'ambitimismo ci sia invece comunque un segnale di buona volontà come dicevo prima da parte degli operatori del commercio ma anche un po' di economia più gira e gira all'interno del commercio cittadino e in questo gli attori principi sono stati proprio i commercianti assieme ai loro consumatori consolidati che non è da poco perché le iniziative che spesso vedono protagonisti i centri commerciali che sono ai margini delle nostre città sacrificano fortemente le attività del centro e l'economia che poi beneficia di tutta la città e di tutti i cittadini quindi ci teniamo particolarmente per noi spero la prima della serie di iniziative che faremo a favore del centro storico di Porto Bluaro e di un'unitrofi grazie a tutti